Matteo Ranieri, attuale tronista di Uomini e Donne, sta vivendo un momento un po' delicato e a tratti confuso a livello sentimentale. In effetti, il suo trono ha subito diverse fasi e momenti altalenanti, tra indecisioni, ripensamenti, discussioni, intromissioni dall'esterno e uscite di scena del tutto inaspettate. Come sappiamo, stando ad alcune anticipazioni, nelle prossime puntate dirà apertamente in studio davanti a tutti che, nel mentre Federica era assente, non l'è mancata e non l'ha pensata più di tanto. E per questo motivo, deciderà anche di eliminarla. Ovviamente la reazione della corteggiatrice è immaginabile. Ma solo dopo essere stato convinto da Maria, il tronista uscirà da lei per parlarle. Il resto bisogna scoprirlo solo guardando le prossime puntate. Nel frattempo, rispondiamo alla domanda iniziale, qual è il retroscena del passato e la confessione personale di Matteo. Il tronista si è lasciato andare a rivelazioni inaspettate riguardo al passato in una recente intervista al magazine di Uomini e Donne. Ecco che cosa ha detto, in una recente intervista al magazine di Uomini e Donne. Il tronista ha raccontato della sua esperienza sul trono, un po' travagliata, immaginando cosa gli avrebbe potuto dire una delle persone più care a lui. Sua nonna, venuta a mancare tempo fa? Per lei ha usato parole dolci e commoventi, che lasciano intravedere il sincero e profondo attaccamento che ha ancora oggi, nonostante non ci sia più. Continua infatti ad essere una presenza fondamentale nella vita delle laranieri. Quindi, per prima cosa ha ipotizzato che cosa gli avrebbe detto riguardo alla sua situazione sentimentale e ha dichiarato, di scegliere una persona che mi faccia stare bene, al di là dell'aspetto estetico, e che mi faccia stare tranquillo. Perché di questo ho bisogno. Le sarebbe, credo, dispiaciuto vedermi in difficoltà. Di certo mi avrebbe detto di svegliarmi, di essere più sicuro di me.